Lascia di incantare del giuradino Ciao 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 Grazie di essere qui 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 Come oggi Come oggi Oggi Come avrai il letto dal titolo Proverò a farti dormire in dieci 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 minuti Ma se tu sai che ti serve più tempo Avrai comunque Più tempo Circa 30 minuti Per addormentarti Quindi non ti preoccupare Non c'è fretta Però l'obiettivo è quello di far dormire il prima possibile Ok? Per voi oggi ho un sacco di trigger Super belli E Fra qui questo Ma anche il Sandwich Gelatino Che adesso andremo a vedere cosa mi è super interessante E ho altri suoni che sicuramente avrò spoilerato nell'anteprima Ma prima Ma prima Di cominciare con questi trigger Voglio ringraziare lo sponsor di questo video Che è Purelei Purelei è un brand di gioielli Che io personalmente adoro E tutto ciò che mi vedete indossato A parte La fedele di fidanzamento E di questo brand E in particolare oggi voglio far vedere dei nuovi pezzi Che fanno parte della letter collection Quindi è una collezione Incentrata Sulle lettere Vi faccio vedere ciò che ho io Allora Io Ve la faccio vedere intanto così Questa collana Con la C Non so se nel video le vedrete al contrario O giuste Ma vi assicuro che sono giuste Quando qualcuno vi vede È di questa altezza Ve lo faccio vedere anche da vicino Il ciondolo Lo trovo super carino Il ciondolo E questo è appunto Lecci con volta dei brillantini E poi Da che sono vicino Ci sono anche due tipi di orecchini nuovi Uno con Tra l'altro quello ha sensato questo Close up Movimento sulle orecchie Quindi spero rilassi anche voi Questa è una C Sul lobo O anche la La Così ovviamente per ami E poi c'è anche la lettera con Il ciondolino Quindi Fa gusti E personalmente Lo trovo perfetto anche Per un regalo Perché La lettera è comunque una cosa Che si può Giustamente Personalizzare E la trovo anche carina Come cosa Fare fra due persone Quindi magari regalare La lettera della persona Che arriva al regalo E la lettera della persona Che l'ha regalato La trovo una cosa super carina Oppure da comprare in coppia E indossare la lettera dell'altra persona Non lo so Mi piacciono un sacco queste cose Mi sono sempre piaciute tanto E Il codice sconto è Chiara Trattino Letter E mi dà il 20% Di sconto Sul sito E Lo sconto è valido fino al 25 novembre E spero che possa essere utile E spero che possa essere utile Io ringrazio ancora più a lei Per aver sponsorizzato questa parte E li vi ringrazio anche voi sempre Per Tutto il supporto Mi date Cominciamo subito con i suoni Cominciamo col mio breve Che è questo L'ho fatto una volta in live su Twitch Lo facciamo Penso poi su Youtube E' un semplice bilchiere E' barattolo con dell'acqua Ma il tapping sul vetro in cui c'è l'acqua è diversa Il più basso E' una I Così Il tapping dove non c'è l'acqua E' un po' più una I E' un po' più una I Chi è guidato tanto Capirà Per chi è guidato tanto Adesso ti spiego Che il tapping Con la I E' il tapping più acuto E' il tapping con la O o andando al più in più basso questo è molto semplice come cosa tra l'altro proposto di orecchini ho prenotato per martedì l'appuntamento per fare il terzo tocco e l'ultimo ho aspettato che mi guarisse l'helix questo qui ha il piercing sopra nell'orecchio sinistro e andrò sia a farmi il terzo tocco in entrambi le orecchie e sia a mettermi il piercing più carino nell'helix e non lo so non vedo l'ora e devo dire che non mi faccio scopare questo suono anche per il flacchie però ma da un po' che non parlo e so che vi piace so che vi piace praticamente l'ho fatto luglio poco prima di partire per il viaggio di nozze in cui c'era molto mare mare mi ha fatto molto mare e la ragazza che mi ha fatto il piercing mi ha detto che in realtà non era il massimo fare il piercing prima del mare perché il mare comunque non è acqua pulita e quindi mi ha consigliato di sciacquarlo più volte e di lavarlo tipo insaponarlo tre volte al giorno e poi sbruzzarci tipo la mucchina mad e devo ammettere che mi si è arrostata tantissime volte l'helix e rispetto anche agli altri buchi sul lobo questo è il mio primo piercing ever quindi non avevo mai avuto a che fare con un piercing nella prima volta per me penso anche l'ultima volta comunque rispetto ai buchi con lobo non l'ho mai toccato si è subito diciamo chissato e avevo paura muoverlo perché avevo paura si aprisse insomma una ferita eccetera però da circa tre settimane mi è diciamo guarito completamente mi è passata completamente l'infezione che avevo un po' proprio di base e io ho cominciato a muoverlo tranquillamente non mi fa per niente male e quindi mi è passata la paura di diciamo togliere il piercing che mi avevano fatto il giudato dell'orecchino che mi avevamo messo quando mi hanno fatto il piercing sostituirlo prima era una pura incredibile mi facesse male mi facesse male ho avuto curarmi soprattutto quando ho preso l'aereo perché sia all'annata che al ritorno purtroppo è un posto molto sporco e mi aveva diventato un po' gonfio mi rispondo in particolare comunque è dovuto guarire sia all'andata che al ritorno mi ha fatto l'aereo degli acce di nozze non è stato il massimo però d'altro canto invece non mi ha fatto assolutamente male come mi aspettavo anche la guarigione anche quando per sbaglio ci prendi contro mi ha fatto molto più male il lobo rispetto del secondo buco rispetto a questo mi ha fatto male le prime due settimane ma neanche tanto praticamente basta infatti dopo ho avuto fortuna lo saprei ok faccio ascoltare un po' questo suono ok faccio ascoltare un po' questo suono ok faccio ascoltare un po' questo suono Grazie a tutti. 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 Cleanser. Per chi si chiedesse che smalto sto indossando? Perché vi conosco? Con il colore che vedete qui, il colore che vedete qui, rosa salmone, rosa pescato, quindi oggi sono il colore rosa pescato e probabilmente anche il nome, se non mi ricordo male, ha qualcosa, tipo Peach, una cosa del genere. entri in dissi lasciati incantare quindi attenzione comunque si vede è che questo è di uno shop diverso rispetto a questi due è anche l'unico che non ha la calamitina non ce l'ho sapete cosa mi sembra? quando mi è sembrato questo gesto che non faceva da secoli sapete quanto da piccoli si facevano dare i bacini tipo alle barbi e quindi sembrava questo a 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 veramente un sacco tipo quasi tre settimane perché sono andata qui il weekend scorso e dal weekend scorso sicuro non avevo tirato un video e questa settimana il vedi è uscito un video che ho registrato penso duvedì e poi è uscito un video bluver quindi una settimana non resta o più di una settimana oggi è sabato e il sabato sera l'altro si prego dicimi che anche voi a volte non se non non se faccio il weekend fuori è una cosa ma di solito scuola il venerdì o il sabato non ci dicate che questo è il mio folle sabato sera lascia ti ipnotizzare da questo suono e da questo movimento e da questo movimento ok ancora più vicino segui segui il movimento degli miei dita seguilo 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 eccoci qua seguilo 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 lo trovo proprio quasi ipnotico perché essendo circolare ha un affumento più lungo non so perché è particolare e facile da seguire e se che ha un movimento sempre uguale e continua non so quanto spreccio devo dire non so se vuoi se vuoi se vuoi se vuoi se vuoi se vuoi super vicino al microfono perché i microfoni sono qui ultimo trigger, questo è un buon esperimento e questo è un buon esperimento ok, questo me l'ha preso la Carly da Tiger e è un buon esperimento questo perché ho paura sia troppo forte, non lo so è un buon esperimento è un buon esperimento non lo so io spero davvero che vi sia piaciuto questo video anche questo video vi abbia rilassato e che io abbia raggiunto il mio obiettivo di addormentarvi in 10 minuti nel qual caso probabilmente non sarete guardando questa porta quindi farò lo stesso comunque grazie per aver visto il video fino a qui e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio si è giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi augurarvi augurare a te una buona 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 notte 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 good night sweet dreams buenos notis buenos notis buenos notis buenos notis buenos notis for me vete show you good night good night good night good night good night good night my pasta I can't remember I don't know good night good night bad night good night you can't remember what am I waiting for you? good night bad 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 night Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.